Ramtrak è la prima azienda ad utilizzare gli standard per il traino che sono stati diramati dalla SAE e noi in questo prossimo servizio vediamo di cosa si tratta. Ramtrak è l'unico produttore di pick up ad adottare le specifiche tecniche J2807 della SAE, società di automotive engineering, per quanto riguarda i sistemi di traino in tutte e tre i segmenti di pick up da mezza tonnellata, tre quarti tonnellata e una tonnellata. La capacità massima di traino delle pick up Ram sono rimaste invariate ed in alcuni casi addirittura migliorate sotto lo standard SAE J2807. La pick up Ram 1500 si afferma nelle prime posizioni in economia di combustibile e la SAE conferma che si trova al primo posto per quanto riguarda la capacità di traino per motori V6 da 3 litri ecodiesel con cambio a 8 velocità, abbinando il best in class per quanto riguarda il consumo di carburante che si attesta a 28 miglia per galone nelle misure americane con un massimo di 9200 libre di capacità di traino. Il motore 3.6 litri V6 Pentastar della Ram 1500 con trasmissioni da 8 velocità è anche il best in class per quanto riguarda il risparmio di carburante con valori 25 miglia per galone con 7600 libre di capacità di traino mentre la versione Ram 1500 Heavy Duty equipaggiata con il motore EMI V8 da 5,7 litri e l'esclusiva trasmissione ad 8 rapporti mantiene pure il più alto livello di capacità con il traino best in class SAE di 17.970 libre e una capacità di carico di 3.970 libre. Il più grande motore V8 nel segmento Heavy Duty, il 6,4 litri EMI, eroga 410 cavalli di potenza e 429 Nm di coppia con il caratteristico sistema VWT che permette di risparmiare nel consumo di carburante attraverso la disattivazione dei cilindri. La Ram 3500 Heavy Duty è la regina delle salite con capacità di traino secondo i parametri SAE di 30.000 libre grazie alla presenza del motore 6,7 litri Cummys Turbo Diesel in grado di erogare 385 cavalli e 850 libra piedi di coppia. Tutti i carrelli sono dotati di insuperabile garanzia di powertrain Ram di 5 anni oppure 100.000 miglia che equivalgono a 160.000 km. Dal suo lancio come una divisione autonoma di Chrysler Group LLC nel 2009, il marchio Ram Truck è costantemente emerso come leader nel settore con un unico obiettivo, costruire il miglior pick-up, autocarro e veicolo commerciale del settore. Così ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità e torniamo con Motor News e con altre novità del mondo dei motori.